Aaaaaah! Aaaaaah! Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sboxamento Attenzione abbiamo una novità sul canale E' follia C'hanno inviato un pacco Allora vogliamo intanto prima di partire ringraziare il Corriere Fantastico Ha fatto un fango vedere tutto questo Una leggera pressione sull'altro che ha causato Vabbè, secondo me, quando ha preso il pacco gli ha tirato un pugno, poi non so come faccio, sapevo, però ha forse qualcosa cercando di uscire dal pacco, non lo sappiamo. Potrebbe anche essere questo. Intanto vogliamo ringraziarvi perché è il primo pacco che riceviamo da voi, utenti iscritti al nostro canale, è successo veramente. Adesso andiamo a leggere chi ce l'ha inviato e non poteva che essere. La nostra, fate che copro io le sue... No, cote le mie che... Non so se leggete, però ve lo dico io, c'è scritto Giul... Cosa si legge in italiano? Giulia Piazza. Dopo di questo veramente non so. Se siete interessate di inviarci pacchi bomba, chiedetecelo su Instagram in direct e possiamo metterci d'accordo, posso fare una casella postale, tanto che cazzo gli spedisce i pacchi, siamo seri. Grazie. Ok, io non perderai tempo, se io andrei a sbocciare... Chi lo apre? Scavicchi ma non apra! Apro le mie in Germania! Scavicchi ma non apra, guardiamo! Attenzione! Io non vedo! Cos'è? E io sì! E io non vedo! Cos'è? Nooo! Grandissimo! Sei un idola! Scusate, tralasciando questo un attimo, c'è della sabbia! Non voglio sapere perché! Ah, corriere! Va bene! Sono le focaccine dell'Esse Lunga! Grazie, che bello! Sono buonissime, Asha! No, sono buonissime davvero! Non è un... ...dipendo di tu parte! C'è, c'è la data di spedizione del parco? No! Cioè, non lo so in realtà! Da consumare preferibilmente entro il 9-07-2017! Ma è di... Cos'è? 19! 19! Grazie, corriere, sempre! Mi sa dieci giorni sotto il sole, queste bocaccine! Ma noi mangeremo! Perché noi mangiamo! Ma dovremmo andare? Sì, no, aspetta! Qualunque cosa... No, 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 non è vero! Non è qualunque cosa, qualunque cosa sull'alimentare! Ok! In onore di Giulia Piazza! 3! 3! Yoko! 1! Salute! Beh! Un buono! Un buono! Un buono! Un buono! Molto buono, grazie! Un buono! Un buono! Un buono! Un buono! Un buono! Un buono! Un buono tragate mattoni per la... Hasphag cargo mattoni! 2! Grazie a tutti.